E' arrivato il momento di svappare, svappo me! Assolutamente no, chi mi conosce sa che non ho mai inveito contro gli arbitri, ho sempre attaccato a casa mia squadra che non ha saputo fare il risultato, ma sembra che Orban è diventato un refrain, tutte le partite le subiamo sistematicamente, partendo la domenica scorsa con una terna completamente inadeguata che ci ha privato oggi di un giocatore che è esperto come il centrale difensivo Guardabascio, addirittura gli ha dato quattro giornate di squalifica, ma anche se avessi dato una fucilata a qualcuno, quello si dà per atti violenti. Un giocatore che stava cadendo è andato a finire sulla gamba dell'altro giocatore, un fallo, nemmeno un fallo di gioco, addirittura l'ha espulso, ci aspettavamo la giusta punizione per il diretto rosso, invece addirittura quattro giornate e questa la dice lunga un pochettino su quello che stiamo subendo quest'anno. Cinque partite, abbiamo subito cinque rigori, quattro rigori, adesso non ricordo nemmeno quando ne abbiamo subite e oggi credo che hanno proprio troccato il fondo con espulsioni, ammunizioni, un atteggiamento sempre scontroso nei nostri riguardi della nostra squadra e ha fatto sì che mentre stiamo facendo lo sforzo finale per raggiungere e guardare il risultato, ha munito, ha spulso due giocatori nostri che sono entrati per poter raddrizzare il risultato, potevamo addirittura raggiungere addirittura i nove uomini, pensate se eravamo in undici. Invece questo non è potuto avvenire perché un arbitro che si rivestono di un'autorità che non so fino a che punto gli competono possono fare dire quello che vogliono con i fischetti. Io non voglio favoritismi con gli arbitri, ci mancherebbe altro, lungi da me a dire questo. Voglio una sana neutralità che in questo caso non ho visto e non ho visto neanche nelle altre partite. Se queste sono le condizioni per poter fare un camminato di questo genere dove noi ci giochiamo veramente tanti sforzi durante tutto l'anno, che facciamo e vanificano tutto questo, sinceramente io ritengo opportuno che già da lunedì partiranno delle lettere di rimprovero, una lettera di protesta nei confronti sia della federazione perché stiamo qui anche con le iscrizioni che facciamo noi e che non si devono preoccupare soltanto di prendere i soldi e delle iscrizioni, ma si devono anche preoccupare delle direzioni arbitrali che sono a sfavori di una squadra o di un'altra squadra. E partiranno anche delle lettere di protesta con la federazione degli arbitri, penso che ancora sia il presidente Quartuccio, e mostreremo il perché e il percome, certamente non perché volevamo essere favoriti, ma porteremo anche un contributo di immagini, non soltanto in questa partita ma anche delle altre, e dovranno prendere delle sanzioni, credo, almeno gli arbitri che hanno oggi fatto questa partita, perlomeno verranno, non so, sicuramente non ci daranno i tre punti, però ci facciamo sentire nelle sedi opportune e credo che sia giusto che sia così. Per la prossima partita tre squalificati, forse due infortunati e anche un problema tecnico adesso per le clanese, bisognerà intervenire sul mercato addirittura di emergenza o si riuscirà a compensare con la rosa? Noi abbiamo una rosa abbastanza ampia e quelli che ci sono, i ragazzi che ci sono, possono sostituire egregiamente anche chi è che non ci sta. Però effettivamente ci sono dei titolari, dei titolarissimi, che sono stati presi proprio perché ci devono dare quel salto di qualità per poter toglierci da queste sabbie mobili che al momento siamo in ultima posizione. Ci riprivano di una partita anche importante con la Palmese domenica prossima, quindi oltre il danno che ci hanno causato oggi pomeriggio ci sarà anche la BEF che non possiamo utilizzare dei giocatori di esperienza e valide per la prossima partita. Io ho detto al mio delegato, all'albitro, che devono controllare che cosa hanno scritto, perché se ne è viste tutti coloro in questi anni, ho visto cose che si sono inventate delle cose. Ci è capitato a noi, credo che ci è capitato anche a altre squadre, ma bisogna rivedere un pochettino come vengono segnalati questi albitri, come vengono presi per fare gli albitri. Spero che non sia soltanto perché hanno in contributo spese la domenica per venirsi a fare la partita o altre cose, spero che siano presi tramite una selezione di meritocrazia. In questo caso credo che la meritocrazia non c'è stata proprio. Grazie a tutti.